La ricostruzione post sisma dell'Aquila del 6 aprile 2009 è uscita dalla priorità del governo e noi abbiamo la grande esigenza di farci ascoltare se necessario di alzare un po' la voce perché è un problema di tutta la comunità che unitariamente deve farsi sentire. A lanciare l'allarme il presidente vicario della regione Abruzzo Giovanni Lolli ai lavori del tavolo della ricostruzione convocato con l'obiettivo di riaccendere i diflettori sulla ricostruzione del capoluogo e dei comuni del cratere sismico. Tra gli argomenti quello della proroga, il pagamento delle tasse sospese e delle nomine dei due responsabili degli uffici speciali, le procedure sono iniziate, ha detto Lolli riferendosi alle nomine, ma temo che ci vorrà ancora del tempo prima che i due uffici possano riprendere regolarmente a funzionare. Si è anche evidenziato che la situazione degli uffici speciali per la ricostruzione è aggravata dalle scadenze contrattuali dei dipendenti che determinano ritardi per le pratiche. Rubavano di tutto dalle auto ai computer nelle scuole, dai congelatori ai televisori e persino oggetti e rame che si trovano nelle abitazioni. In quattro sono stati raggiunti da ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Lanciano Massimo Canosa al termine di un'indagine iniziata a gennaio di quest'anno e condotta dai carabinieri della compagnia di Lanciano che si sono avvalsi di intercettazioni telefoniche e ambientali su conversazioni in cui gli interlocutori si esprimevano con termini convenzionali e in dialetto foggiano. Tre le ordinanze già eseguite, tutte domiciliari, si tratta di un 29enne di Castiglione Messermarino, di un trentenne di Sansevero e di un 36enne di Fossacesia. Una quarta ordinanza che prevede la custodia in carcere a carico di un 47enne di Sansevero non è stata ancora eseguita. Le accuse sono di furto aggravato e ricettazione, i particolari dell'indagine sono stati illustrati a chieti nel corso di una conferenza stampa svoltasi nel comando provinciale dei carabinieri dal capitano Vincenzo Orlando e dal tenente Massimo Canale che comandano rispettivamente la compagnia e il nucleo operativo radiomobile dei carabinieri di Lanciano. 20 le persone indagate complessivamente, 11 le perquisizioni effettuate. Si tratta come emerso in conferenza stampa di veri e propri pendolari che si muovevano dalla Puglia per compiere i furti trovando la complicità e l'appoggio da parte di persone residenti nell'area frentana e dell'alto vastese. Le auto in prevalenza di piccola e media cilindrata ma anche autocarri venivano rubate utilizzando apposite centraline elettriche, quindi o venivano riciclate o rivendute oppure fatte a pezzi. Gli uomini della sezione antidroga della squadra mobile hanno arrestato all'Aquila due cittadini extracomunitari rispettivamente di nazionalità macedone-albanese per spaccio di sostanza stupefacente. Dopo un'intensa attività durata alcuni giorni anche a mezzo di pedinamenti e perquisizioni, gli investigatori sono riusciti ad intercettare i malviventi che viaggiavano a bordo di una Ford Fiesta sull'autostrada 24 e che all'altezza di un cavalcavia, a qualche decina di chilometri dal capologo di regione, avevano lanciato un involucro. A quel punto gli operatori li hanno inseguiti e mentre i malviventi, in un terreno abbandonato, erano intenti a recuperare l'involucro, hanno proceduto al loro arresto. Sono stati rinvenuti oltre 200 grammi di cocaina, pronta per essere immessa sul mercato della droga del capoluogo e che avrebbe fruttato al dettaglio la somma di 15.000 euro. Entrambi gli extracomunitari sono stati portati in questura a disposizione del sostituto procuratore Fabiano Rapino della Procura della Repubblica di Pescara, competente territorialmente. Gli arrestati sono stati poi accompagnati al Tribunale di Pescara che, dopo aver convalidato il loro arresto, tenuto conto dei gravi indizi del reato contestato, nonché il considerevole quantitativo di sostanza detenuta ha disposto all'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.